La possibilità che ci assumiamo colettieri perché la nostra mission è proprio quella di portare la musica alla gente perché poi la gente possa tornare alla musica. Lo abbiamo fatto con gli incontri di invito all'ascolto della stagione del Garibaldi che erano molto colloquiali. Lo abbiamo fatto con le nostre attività, vengendo a coinvolgere perfino i bambini dei tre anni. Come in piscina fanno l'acquaticità, noi facciamo quello che si potrebbe chiamare la musicistà. E lo facciamo in questa nuova biblioteca, mediateca, spazio musicale, non solo offrendo la possibilità di consultare i volumi, di ascoltare i dischi ma anche di concordare piccoli eventi di invito all'ascolto su tematiche precise con la possibilità anche di visionare opere, ascoltare brani in maniera guidata. Quello che dovrebbe fare una biblioteca, non solo uno spazio aperto alla visita del pubblico ma uno spazio dove poter fruire consapevolmente di tutta questa bella musica.